Focus in Live è proprio questo, è l'Associazione Culturale del Benessere Psicofisico e quindi aiutiamo chi vuole a ritrovarsi, quindi attraverso corsi, eventi sociali e quant'altro. A 360 gradi chiunque vorrà mettersi in gioco, anche giovani e meno giovani, possono rivolgersi a noi. Qui adesso abbiamo questo posto anche a Casteldaccio, che è la biblioteca comunale, e quindi faremo anche dei corsi e dei percorsi per aiutare anche i bambini che vengono dalle scuole, collaboratori proprio creativi e poi portarli anche in giro a far riconoscere queste creazioni fatti sia dai bambini che le persone molto più mature, creando eventi e far riconoscere questa creatività di chi si è messo in gioco. Sono venuta a conoscenza di questa realtà a Bagheria, che è la Focus in Live, che adesso è anche qui a Casteldaccio e tramite la sua presidentessa ho fatto un corso con lei di massaggio, Relax, Decontratturante, Total Body. Io mi occuperò all'interno dell'associazione di un corso teatro di espressività più che altro, insomma, sia per ragazzi che per adulti. Abbiamo creato un connubio unitario di forza. Oggi parlo proprio dei nostri progetti, vi parlo anche dei nostri sportelli d'ascolto che si trovano a Bagheria, alla Casa del Volontariato del Martedì, dove molte donne vengono a conoscere, dove molte donne vengono a esprimere i loro disagi o a esprimere le loro lacune interiori, dove lì all'interno di quegli uffici cerchiamo di trovare la soluzione adatta ai loro percorsi. Parlo anche delle donne che comunque hanno subito violenza o subiscono in silenzio violenza. Ebbene, questi percorsi aiutano in modo semplice, in modo dettagliato, anche la donna a uscire fuori da certi contesti di violenza, dove deve riscoprire qual è la sua vera identità. E allora partiamo proprio da percorsi iniziali che aiutano a far crescere. Poi abbiamo altri obiettivi con Focus in Live, i giovani, l'educazione dei giovani, i nostri adolescenti. Per associarsi bisogna anche andare sulla pagina Facebook, dove c'è appunto l'associazione Focus in Live, dove ci sarà sia l'indirizzo email che i numeri di telefono a cui rivolgersi. E quindi sarete a corrente di tutto quello che l'associazione svolge. e quindi sarete a corrente di tutto quello che è l'najziamento. Grazie a tutti.